buongiorno ciao buongiorno ciao piacere o ho avrei bisogno di un appartamento anzi un bello perché faccio musica faccio faccio avete qualcosa per me guardi noi nella soluzione casa abbiamo sempre qualcosa per i nostri clienti ma che grande la cosa quindi mi può vedere qualcosa non so vediamo aspetti un secondo possiamo avere un bilo un trilo o un loft che cosa vuole bello 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 ma sì ma anche giardi massa tale qualcosa che vada a me bene 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 mi piace fratello va bene confermo quello fratello confermo quello bella lì mi piace soluzione casa soluzione casa di papa massimiliano ci trovate a limito comasco via roma numero 5 perché ai miei clienti li ascoltiamo e li coccoliamo che sono sempre al primo posto o